ciao buongiorno a tutti siamo qua settima tappa del giro e e settima tappa del giro d'italia che si è appena conclusa abbiamo visto l'arrivo di cale b1 al giro e qua insomma andato tutto bene ci siamo divertiti una bella giornata ventosa però dai devo dire che è stata una tappa divertente anche se anche se lunga e niente domani un altro giorno un'altra bella tappa siamo ancora in abruzzo e si va si va insomma all'ottava tappa si valica i sette giorni la settimana di pedalate riposo ancora un po lontano perché si corre dieci stage prima di fare una tappa di riposo e niente continuate a seguirci grazie grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti